Ciao papà Ah, ciao figliolo, come è andata oggi a scuola? Bene, bene, i compiti benissimo Ma che cazzo me ne frega a me di come sono andati i compiti? Volevo sapere se il marito della tua prof d'inglese ha scoperto che tra me lei Ma, cosa? Vai a giocare di davanti, vai Papà Dimmi figliolo Ho un problema Che problema hai? Dillo tu Beh, mi sto sentendo con due ragazze e... Sono sentendo? Sì Io le tatuame ne faccio 7-8 contemporaneamente Adesso è scesa un po' la presa perché ho anche una certa età Adesso 4-5 Comunque, non sei mio figlio, guarda, non è proprio preso da tuo padre Papà? Papà? Che c'è? Ascolta... È importante perché sto facendo la partita? Sì, mi aiuteresti con i compiti I compiti? No, guarda, questa è una cosa che non avverrà mai Aspetto so fare uno più uno I compiti Papà, oggi un mio amico mi ha chiamato idiota Ti ha chiamato idiota? E tu che cosa gli hai detto? Eh, niente Non gli hai detto niente Andiamo subito a casa sua adesso A fare cosa? A spaccare la faccia al padre Salve professore, sono il padre di Roberto Junior Bene, l'aspettavo Suo figlio oggi ha chiamato testa di c***a a un ragazzo Sa per caso dove l'ha potuto sentire? Ah, beh, non saprei, guardi Ma, strano Che cosa da fissarmi, eh? Testa di c***a? Papà, sono triste Triste? E per quale motivo? Mi ha dato male il compito di matematica Esistono problemi peggiori, caro mio Pensa che io sono triste quando Non vedo per un intero giorno la f***a I compiti